ciao amiche di cucito saluto a tutte io sono elisa per chi non mi conosce e ho fatto questo video per ringraziarvi tutte perché siete diventate tantissime e non sto riuscendo a rispondere a tutte perché mi state scrivendo in privato e sui social qui su youtube non riesco a rispondere a tutte io ringrazio anche mia nipote che sta cercando di aiutarmi e abbiamo iniziato questo anno alla grande quindi non so che dire sono emozionatissima perché non pensavo di avere così tanto riscontro sono veramente emozionata io vi strizzo proprio in un forte abbraccio e non trovo neanche le parole per ecco per per ringraziarvi sto prendendo appunti di tutte le cose che mi state chiedendo piano piano le faremo tutte certo non non so adesso come poter diciamo cioè le richieste sono veramente tante io avevo fatto una piccola scaletta cercherò di mettere tra quelle che io già avevo pensato anche le richieste le ultime richieste che che mi fare insomma speriamo che qualcuna coincida con con i miei progetti che dirvi sto un po in ritardo però già girato due tutorial li sto editando quindi domani uscirà uno di due e poi in questo modo ne sto girando due insieme in modo tale che cercherò di insomma non lasciarvi tanto in sospeso e che dirvi io vi strizzo in un forte abbraccio vi ringrazio tutte 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 abbiate pazienza perché a me piace rispondere a tutti però sta diventando difficoltoso quindi specialmente chi scrive le mail sto sto un po in in confusione allora abbiate pazienza risponderò a tutti e niente vi lascio con le immagini che abbiamo fatto in questi pochi giorni dell'inizio dell'anno ne faremo tanti tanti e che dirvi al prossimo tutorial ciao amiche ciao a tutti 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 ciao a tutti